Con il mancino, poi Jaypata, attenzione il mago di Rozzano se ne va, Jaypata, 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 Bravo! 3-1! Un po' pericolosa, diciamo. In campo, ricordiamo anche Giannelli, che è un ex, a parte il team! Gagno! Oddio! Oddio! Ma chi ha fatto gallo? Oddio! Oddio! Un zero oragona! Che cos'è questo? Porta in vantaggio gli oragons! Ah, la maschera! E attenzione, si mette la maschera nel gallo! In campo, in assoluto, dalla fucina. Colpo di testa, ancora H! Oh mio Dio! Prenditelo il voglia! Prendi il voglia! H! Oddio! Che gol! Quattro pari! E dall'Apple coso? Ah, ok, ok, ok. C'hai i gradi proprio nella 1. Attenzione! Dose, Dose, Serpentino! Riccardo Dose, 3-1! Grande giocata di Gabriel Lopez per Stoicovici! 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 Ma che gol ha fatto Stoicovici! E questo è un gol da campione! Da campione! Il prof per Zaccaria, Zaccaria per Fratino! E' sempre lui! E' sempre lui! E' sempre lo Spice Boy! E' solo lui! Tom Ford, 6-6! E manda al bar Carpani, ma poi... Attenzione! Balonetto! 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 Deve uscire Insta Keeper! Eccoci! Bravo! Comunque crederci! E' partito il treno! Costu costi Insta Keeper! E perché non dici il cavallo anche per lui? Attenzione Insta Keeper! E' partito il treno! Oddio! E poi ammazzate! 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 Relazionali! Non ho capito, ma se uno si fa male, scusa eh! Vediamo Funicoli, Zazzà, prova a diventare dalla tre... C'è! Oddio! 3-2! Funicoli, Zazzà! Una partita clamorosa, Pancio! Pallone dentro, attenzione, la possibilità! Oddio! Che è fatto a Simone? Simone! Ma non ci credo, un pazzo! 6-5! Il chirichetto! Spero che supportiate il canale, c'è Andre che si sta cambiando! E io sono qua e questo è l'altro! Come al solito, come si dice su YouTube in questi casi, kawaii bang a tutti! Ciao!